A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Benvenuti all'appuntamento del venerdì con le previsioni del tempo per il fine settimana. Ma vediamo come di consueto il tempo che abbiamo avuto sino ad oggi venerdì 18 agosto. In questo mese abbiamo avuto sei giorni con cielo sereno, poco nuvoloso, nove giornate variabili e tre giorni con cielo molto nuvoloso o coperto. Le piogge che sono cadute sino ad oggi a Varese sono molto scarse 4,1 mm. Il valore medio che ci attendiamo con i dati calcolati registrati negli ultimi 56 anni, il valore medio sono 144,6 mm e per raggiungere questo valore medio devono caderne ancora 142,5. Dall'inizio dell'anno intanto si alza il deficit pluviometrico che sino ad oggi ha raggiunto in meno 237 mm di pioggia. Le temperature invece di questo mese di agosto sono state più alte della media, infatti sino ad oggi un valore medio di 24,5 contro un valore medio mensile di 22,5 gradi, quindi 2 gradi in più. La giornata più calda con la temperatura massima più alta ha fatto registrare 31,5 gradi ed è stato il 16 agosto. Qui a Varese però abbiamo un record per agosto di 36,5 gradi e questo valore è stato registrato il 4 agosto del 2017. La temperatura più bassa invece abbiamo registrato 17 gradi il giorno 10 e un record per Varese di 8,5 gradi registrato il 3 agosto del 1995. Adesso possiamo passare all'immagine ripresa dal satellite Meteostat da una distanza di 36.000 km dalla superficie terrestre. Vediamo la situazione sui nostri cieli alle ore 11 con la presenza di un'area di alta pressione che va dall'entroterra africano ad occupare il Mediterraneo e tutta la parte della nostra penisola. Troviamo poi sul nord atlantico delle basse pressioni che però con delle perturbazioni che però andranno poi a scorrere a latitudini più elevate. Vediamo adesso la carta di previsione per domani sabato alle ore 14. Nella carta vediamo riportate le esobere linee che uniscono punti di uguale pressione atmosferica. Abbiamo l'anticiclone che anche nella giornata di domani va a rinforzarsi ulteriormente su quello che è l'Europa occidentale. Abbiamo un massimo al suolo di 1020 Etto Pascal. La bassa pressione di 995 Etto Pascal appunto la troviamo decisamente più a nord. Legato a questo promontorio anticiclonico è l'afflusso di masse d'aria molto calde soprattutto umide che porteranno le temperature ad aumentare e aumenteranno anche il disagio dato dall'afa. Veniamo adesso alle previsioni del tempo. La serata di venerdì sarà una serata con cielo sereno o poco nuvoloso, asciutto o solo qualche isolato piovasco sulla fascia alpina. La giornata di domani sabato sarà ben soleggiata anche se avremo a tratti passaggio di nubi alte. Le temperature massime aumentano tra 33 e 36 gradi i valori previsti con sensazione di afa, quindi alto tasso di umidità. Le minime tra 19 e 22 gradi. Anche per sabato magari qualche isolato piovasco ma solo sulla fascia alpina. Domenica il tempo è sempre simile, sempre ben soleggiata la giornata, molto calda, afa e forse qualche piovasco solo in montagna. Primi giorni della prossima settimana la situazione non cambia. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate ben soleggiate, molto calde, probabilmente asciutte su tutta la regione. Soltanto a partire da giovedì sono previsti nuovamente temporali, in particolar modo nella giornata di venerdì. Con questo è tutto concluso, vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend e ci rivediamo la prossima settimana.